Covenegidio è una compagnia basata in Pavia, Nord Italia, per manufatturare e produrre macchine perfume, crimping e filling. La nostra compagnia è stata fondata dal mio padre Marco. Da 1993 ho scoperto, lavorando ogni giorno, cercando di espandare i soldi mondiali al mondo. I nostri clienti sono i soldi di contratto o i proprietari di produrre produrre perfume. Abbiamo scoperto un grande spettro del mercato, inizio con il produrre del produrre, inoltre con i produrre del produrre e inizio con il produrre del produrre. Questo anno il Cosmo Forf Bologna diventerà 50 anni. Per celebrare sarà parte di un progetto speciale. La produrre di produrre produrre un produrre produrre con la nostra macchina di fill in automatico. Molti altri maggiori compagni italiani saranno parte del progetto, mostrando la esperienza di fabbrica in Italia per il mondo. L'epoca, il NET è stato il canale più importante per promuovere i nostri produrre. Le video sono molto effettive, introducendo le macchine al cliente. Per sicuramente, i produrre di produrre sono ancora molto importanti. Ogni anno partecipiamo a molti eventi. Europa, Cina, Giappone e l'Onoio sono i nostri principali destinati. La industria del perfume demanda la privacità. Questo è qualcosa che i nostri clienti chiedono più e più ogni giorno. Per questo motivo, vorrei descrivere i nostri clienti come molti e diversi. Infatti, non possiamo nominare i produrre che lavoriamo con noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.